e benvenuti alla nuova puntata di you got chain mail la puntata che nessuno si aspetta quando inizia a tradimento e dove i fanbler cobaldi altra gente della community parla di po tutto un po niente siamo qui con corra mari alice e simone che non c'è perché l'ho preso la sorpresa come state come state come va dai bene 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 pronti per il natale no mai il natale quando arrivo arriva no eccolo simone già che stavo costruendo il regalo per mia moglie e ho riempito d'oro il balcone sono stato tutto il pomeriggio le regali un balcone d'oro magari non ho fatto una crissidra con le bolle di sapore che bella d'oro le bolle di sapore no ma ragazzi voi che state ascoltando non la vedete ma questa cosa è bellissima oh mio dio ma ma è stregoneria bruciatelo beh sai che due tre proprietari di quelle cose esplodono e perdono le mani però bel regalo bel regalo ne voglio una anch'io vogliamo le istruzioni tipo ikea poi per costruirla a casa si fai un don't try this at home con le istruzioni il tuo avvocato simone ha detto che non devi dare istruzioni che possono incriminare te stesso quindi ricordatelo bene ma infatti lui lo chiama don't try this at home così mette le mani avanti non fatelo però vi faccio vedere benissimo come si fa ma entriamo direttamente nel vivo della puntata e chiediamo ai nostri esimi ospiti che progetti avete per natale qualcosa se è qualcosa di non banale altrimenti non interessa a nessuno sono i miei progetti sono totalmente anche i miei qui della fine ok noi siamo già nessuno che fa tipo il viaggio alle Maldive per prendersi il covid e poi trasmetterlo in altri stati cose particolari no per ora no 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 cioè io dai hard perché ci sarà mia suocera che viene a casa mia dei miei genitori a prato questo è quello che dice che lui a natale spaccherà la faccia a qualcuno perché a quanto pare sicuro ci sta invece avete intenzione di giocare a qualcosa nelle ferie natalizie capodannesche noi abbiamo già organizzato i acquareggia per capodanno una serata di giochi con i nostri testimoni di nozze perché non ci garba festeggiare capodanno ci rompiamo le palle ai scenoni e quindi facciamo serata gdr avete già in mente cosa o sarà al buio abbiamo pleggiato talmente tanti di quei giochi nell'ultimo anno di lockdown che abbiamo più scatole che capelli in capo quindi qualcosa si trova da provare questo vale sicuramente per me qualcun altro che giocherà ali voi fate qualcosa side quest no siete in pausa giusto no 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 oddio in realtà stavamo pensando di fare una one shot natalizia però bisogna vedere anche se riusciamo perché natale in realtà è tra meno di 20 giorni cioè non vorrei dire quindi 17 giorni meno male è vero che esatto quindi bisogna vedere se facciamo in tempo maria è l'unica che odia il natale oppure no io in realtà non odio il natale è solo un periodo molto 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 faticoso come per tutti quelli che lavorano nei negozi perché tu sei babbo natale in realtà io sono babbo natale sì sono babbo natale e vendo libri quindi spero di venderli in realtà arrivi in un momento in cui non capisci più niente a me sembra di scambiare dei grossi mattoni di carta per altri più piccoli pezzi di carta a un certo punto effettivamente effettivamente è quello che fai i pezzettini piccoli di carta che tra l'altro la carta che ti danno loro non puoi neanche leggerla al cesso perché no la leggi subito e poi letta letta una si spera si spera che siamo tutti uguali eh sì di solito sì e quindi arrivo a natale in una sorta di confusione in cui è il primo giorno che non lavoro più il 25 dicono perché il 24 si lavora madonna ah sì vedo che tutti hanno vite il 24 è un giorno bellissimo io credo che non abbia mai lavorato un 24 in vita mia adesso vengo lì e ti meno no ma credo anche sicuramente perché di solito prendo le ferie dal 23 e quindi anche quello io lavoro anche domani che non non ha senso dirlo beh ma da noi oggi quando stiamo registrando è festa ad esempio da oggi non si lavora lo so maledetti ho tutti gli uffici chiusi non posso chiedere niente a nessuno se arrivano libri non arrivano i libri non si sa perché a Milano nessuno lavora beh come quando c'è San Pietro e Paolo che chiami la gente a Roma non ti risponde nessuno quindi siete solo voi che siete dei senza Dio e non avete un giorno no no noi ce l'abbiamo è il 26 di dicembre perché siamo degli imbecilli si esatto sfigati incredibili cioè pensavo di essere sfigato io col compleanno il 24 dicembre ma il vostro patrono è peggio proprio eh io in realtà sono al livello di professionismo serio perché lavoro a Roma e Fiumicino quindi a seconda di quale parte sono perché sono due comuni diversi c'è un patrono diverso e quindi se mi dice bene faccio doppio patrono maledetto anche Andrea lavora in due posti e è riuscita a scansare i patroni perché lavora nei giorni sbagliati nel posto no per esempio il 30 era il patrono di un lavoro ma lui era nell'altra provincia beh vedi il vantaggio per lavorare dove lavoro io invece è che anche quando è il patrono di Roma visto che metà della gente che lavora con noi è a Roma praticamente neanche a Milano lo si fa poco perché mandi le mail ti rispondono dopo due giorni comunque io il 25 a cena mangerò il ramen è abbastanza non natalizio interessante ma ha giocato a qualcos'altro voi a parte di Zen? io non riesco a fare programmi in questo periodo neanche io tu Simo? so solo che domani ma io giocherò a come uccidere la suocera però poi con mia madre di chi mi fa girare le palle coinvolgi tutti in una sessione di Greenbox tra l'altro se dovesse succedere qualcosa a tua nonna ormai sanno tutti che è responsabile quindi sei proprio condannato la tua suocera hai appena annunciato davanti a tutte le tue intenzioni sì l'ho fatto anche con mia nonna tanto non ci ha creduto nessuno finché non è morta spero che non l'abbia ucciso non fate arrabbiare Simone grazie vedi questa questione che fa le bolle ecco questa questione può essere bolle o può essere esplosione invece capodanno qualcuno di voi ha già organizzato? madonna sei pazzo zero ok che la nostra che la nostra community è un po' una community di nerd però su sei persone nessuno di noi viene da quelle posizioni disagiate che organizzano capodanno sei mesi prima? noi ci proviamo sempre perché siamo in 25 tipo in compagnia e quindi mobilitare tutti trovare un posto organizzare cibo alcol musica e roba è sempre un inferno e col covid è ancora peggio quindi non so cosa faremo quest'anno se è il mio cellulare no io sicuramente però mi ha aperto uno scrigno piccolo io andrò con la sua cera a casa dipende quanto ti è andato bene Natale se è riuscita il tuo piano eh magari non ce l'hai cazzo è arrivata se è parcheggiata dal 23 fino al primo gennaio e mia moglie prendi ferie piuttosto da lavorare peccato il lavoro nuovo mi hanno dato un sacco di straordinari e faccio ma fai questo lavoro da 12 anni faccio un turno dal 22 al 6 mi spiace no grazie a dio faccio questo lavoro da due mesi quindi la scusa si regge ah ok quindi Mari tu tenti di organizzare sei mesi prima ma non ci riuscite ma in realtà io tento di essere il meno possibile nell'organizzazione di questa cosa infernale ok Simo tu sai già cosa fai a capodanno a gennaio o? allora sì perché dovremmo essere qua a casa perché abbiamo tutto il panorama di Milano dall'ottavo piano di casa mia quindi poi ci ricordiamo da casa al calduccio e io in queste vacanze lavorerò per due progetti del prossimo anno che per ora sono ancora in lavorazione ma ci voglio ritornare a lavorare per bene ma anche tipo una bomba? tipo delle clessite pro ma il gioco di carte? quello storico? il gioco di carte? quello è quello è uno dei progetti pensavo lavorativi stai parlando di progetti extra no no stavo parlando di progetti di gioco di ruolo che se mi frega di lavoro vabbè ma qua parliamo considera Corra Corra non ha mai ascoltato i gocce mele e si è infiltrato comunque no? esatto quindi ha fatto bene quindi lui gli interessa anche il lavoro perché non ascoltando i gocce mele non sa che tu fai bombe come professione ah giusto giusto poi io faccio lo stalker di progetti magari quindi mi interessa quello che fai invece tu Lisenna avete già organizzato eh sì io sono quella che farà il capodanno con il testimone di nozze anche il capodanno no solo il capodanno cioè prima ho detto per le vacanze giocherò ma a capodanno attuali? aspetta sto mangiando ancora meglio fino a capodanno no e questo è un progetto ho preso una mu che è densa come una nanna bianca vabbè hai questo tempo per masticarla no 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 è già mandata giù e rimarrà lì per sempre intanto ho fatto una battuta molto metallica che è bastata nelle ma perché ma no Ali quello è amore ah ok comunque vabbè a capodanno in realtà non abbiamo in previsione di fare niente perché forse siamo rimasti un po' scioccati dai precedenti due ultimi capodanni in cui non si poteva eh allora adesso raccontaci il peggiore cioè il peggiore il più scioccante dei due no è meraviglioso non fare niente a capodanno ma è bellissimo è molto liberatorio cioè io ho fatto diversi anni credo 3-4 anni a capodanno ai tempi su World of Warcraft a Booty Bay coi fuochi d'artificio ma è bellissimo sei un re dei nerd meraviglioso se a un certo punto ti sei rotto il cazzo schiacci un tasto e sei a casa mamma mia dovrebbero essere tutti così capodanni dovrebbero essere e tra un po' saranno tipo il metaverso di Zuckerberg certo pareri dubbi perplessità sul metaverso ma sì non lo sai chissà cos'è Lisanne tu sai cos'è il metaverso il metaverso è il fatto che ora le identità digitali siano tutte quasi quasi insomma di quei social più importanti nelle mani della stessa persona e sia un unico un'unica condivisione una roba del genere eh ma cosa cosa come te lo vengono stanno creando prendete vai corra prendete uno spazio virtuale cioè stanno replicando sul digitale lo spazio reale per cui tu se vai in dei posti addirittura con i VR eccetera eccetera ci sono delle cose che sono cioè immagina che al Colosseo tu ci andrai il futuro e lì ci sarà uno spazio di metaverso Colosseo in cui ti diranno tutte le informazioni di rilevanti collegate in in aree digitali sì però non c'è bisogno che ci vai perché se no è realtà aumentata e la fusione quello di Zuckerberg è che praticamente lui vuole portare a meno degli esempi che ha fatto è hai presente le riunioni che fai? adesso da remoto quelle che non puoi fare in ufficio no? sì prima le facevi in ufficio intorno a un tavolo lui vuole portare il tavolo da remoto cioè inventare uno spazio digitale in cui c'è un tavolo digitale dove tutti siedi l'avatar di Simone in 3D si siede e parla come se fosse seduta a un tavolo con Alice e gli altri che? sì ma posso mettere le skin buffe? molto probabilmente sì ma quindi io posso andare a una riunione di lavoro vestito tipo beh scusa anche adesso puoi fare una riunione di lavoro con dietro lo schermo SpongeBob però non lo fai vero e c'è il buffering di Mari nel frattempo beh però però se è una cosa in futuro ti può permettere di utilizzare un avatar perché non andare vestito da rana beh dipende se stiamo se stiamo giocando a pambolo ok ma se sto per fare la riunione con il marketing e l'amministratore delegato in presenza non vado con il costume da rana vabbè che ne sai dipende magari se fai tipo il designer vai vestito da rana perché no oppure tipo quelle cose americane tipo in cui c'è la giornata che ci si veste casual eh sì il caso al friday sì friday frog esatto beh scusa perché se tu ti vuoi vestire da io voglio vestirmi da sedia con gli occhi tipo i Google AI posso potresti che svolta ma invece mi ha fatto venire in mente il tredicesimo piano e di casa è minchia che brutto deve essere il tredicesimo piano del condominio eh sì no è il film quello vecchio vecchio lo racconta eh vabbè vedetelo a me ha fatto venire in mente il film Fabriziani eh vedetevelo esatto grazie per il tuo contributo eh lo sai è la prima volta dai ha anche messo il green screen per noi e mentre io finisco di mangiare chiederò a Alice di prendere in mano questa bellissima e ovviamente con uno scopo conversazione certo per tirare un altri quindici minuti intanto io finisco di mangiare però in cinque no no quindici minuti la puntata cinque minuti che io mangio ma avete almeno una lista di domande assolutamente no non ne abbiamo più è Natale però io sono per l'anarchia l'anarchia conduttiva quando stavamo chiacchierando prima di iniziare ci condiviamo di cosa stavamo chiacchierando davvero ma è riuscita una domanda molto interessante questa cosa sarebbe da chiedere però io non mi ricordo perché soffro di amnesia non era quella del come fanno se sirene hanno i genitali no ah no io ero rimasta quella anche io ero rimasta quella già davvero? era quella la profondità dei nostri discorsi non male bene Alice vai continui possiamo andare avanti allora si parlava appunto del a livello filosofico di come si potevano riprodurre le sirene e i tritoni e ovviamente c'erano diverse teorie a riguardo perché ovviamente la conformazione anatomico pesciosa di queste creature mitologiche pescioso umana direi però esatto portava comunque a delle domande molto funzionali non è che dovrebbe terminare una domanda questa Alice che cosa? stasera con Piero Tritone la domanda è voi cosa ne pensate a riguardo secondo il vostro io butto l'amo se si riproducono come si? no perché nei cartoni e nelle fantasy tu hai mai visto un tritone riprodursi? degli scienziati hanno mai sì ma non i tritoni quelli fantasy i tritoni nel senso ma parli dei porno? no io parlo della vita reale il porno non è vita reale altrimenti qua e invece le sirene e i tritoni è chiaramente vita reale appunto visto che non c'è vita reale se si dovessero riprodurre come si riproducono gli animali a cui assomigliano l'uomo dovrebbe la donna scusa dovrebbe buttare tutte le uova sul fondo marino e lui mentre naviga sopra spruzzare tipo antincendio su tutte le uova ma per me se deve essere attimente a quello che è la parte pesciosa per me è così sì è l'ipotesi che avvaloravo io nella nostra profondissima conversazione di prima sì ma se siamo tutti d'accordo è una discussione del cazzo quindi corra in mari voi siete contrari infatti non ero d'accordo io non ero d'accordo io proponevo una taschina per gli organi genitali così li tieni nel mare all'asciutto li tieni tipo i coccodrilli però poi tutti mi hanno dato contro e mi hanno detto eh vabbè ma i coccodrilli sono rettili e vabbè allora no però c'è anche a dire una cosa che è tendenzialmente il mammifero viene definito dal fatto che ha le mammelle quindi sono chiaramente mammiferi quindi potrebbero essere mammiferi in quel caso e si accoppiarsi dalla fine è diventata una chimera e invece il rettile e mammifero insieme quindi è uno squalo con le tette che cazzo è uno squalo con le tette è un mammifero però solo una parte non è come il centauro che è tutto mammifero vabbè ma anche il delfino è mammifero è uno street shark femmina esatto gli street shark non sono mammifere esatto eh già hanno le gambe per i famosi gambiferi certo ho capito ma se si parla di mezzo pesce e mezzo no gli street shark sono pesci dalla vita in su ma neanche completamente perché hanno le gambe quindi gli organi riproduttivi saranno ma quindi gli street shark hanno il pene? ma la partenza scusate non è la penna no nel senso che in realtà sì perché la partenza è che loro erano umani e sono stati ma io ho i giocattoli degli street shark che non hanno il pene perché quelli erano per i però se li ordini su wish ma di fatti Ken c'ha un sacco di problemi poi no magari sta benissimo anche Big Jim Big Jim è piatto non ha il pene neanche lui non c'è nessuno nessuno ha il pene nessuno non ci credo nessuno per quanto paradossale possa essere forse il ciccio bello sì è vero il ciccio bello sì è vero i bambolotti i bambolotti hanno il pisellino attenzione che cosa c'è stato un momento in cui tutti ci siamo disittiti abbiamo guardato l'universo facendo è vero hai visto il ciccio bello hai visto il ciccio bello l'unico giocattolo tra l'altro più giovane e ha il pene eh vedi chissà nella nella riunione annuale tra giocattoli quanto si ruba la ciccio bello io mi immaginavo quelli che hanno prodotto questi giocattoli che dicevano beh sì ok alla riunione quella dove noi andavamo vestiti da rana sì sì no allora Ken niente pene Big Jim niente pene ciccio bello sì però la riunione tra i giocattoli come diceva Alice non fanno niente perché è solo ciccio bello che fa l'elicottero in mezzo alla sala facendo e tutti gli altri che applaudono e gli altri tu sarai il nostro re io ho un braccio meccanico ma non riesco a fare l'elicottero e piange tipo giusto la convention dei giocattoli se noi dovremmo aprire una petizione per che poi adesso io non ho visto nessun ciccio bello di recente e glieli mettono ancora o poi magari adesso li hanno tolti per confondere no ci sono ce ne sono ci sono quelli che fanno la cacca che tu ti dai da mangiare sta schifezza e poi dopo fanno la cacca e pisciano per abituarti a una vita di sofferenze se non lo so vai vai ho una domanda io allora adesso forse è già stata fatta chi lo so giocattolo preferito da piccoli la fabbrica dei mostri già che siamo qui io non lo so ma perché era quello è come se adesso giocattolo preferito adesso è la playstation 5 no? cioè era a quel livello io avevo la fabbrica dei mostri e tutti gli altri ragazzini mi guardavano e dicevano oh mio dio i tuoi devono essere ricchi perché costava tipo 50 mila lire la fabbrica dei mostri ti guardavano con invidia io mi sono scottato un sacco tantissimo una piastra bollente ricoperta di plastica cosa può andare storto che tiravi fuori con una palettina di plastica tipo fatta di niente e quindi dicevi vabbè lo prendo con le mani invece il vostro comunque io ci avevo alternativamente prima c'era stato una tartaruga ninja si trasformava da tartaruga a tartaruga ninja quindi c'era la prima versione di tartarughina e poi si montava e ovviamente era Leonardo però poi sono usciti anche i pupazzi dei biker mice da Marte e io lo sterzo con la moto con la moto eh sterzo con la moto ma invece io io avevo un sacco di lego ma faccio in fretta avevo uno scatolone di lego basta a quello si pure io però la passione io per Leonardo e sterzo i lego erano un esercito anonimo loro erano identitari ah bello scatolone di lego scusate aggiungo oltre alla fabbrica di mossi aggiungo eh come cazzo si chiamava Mighty Max ah e Claudio c'ha ancora un sacco di Mighty Max con ancora tutti i pezzi dentro che tu li aprivi ma ancora adesso secondo me sono fighissimi no ma io avevo il castello di Mighty Max bello quello spaccavo bello qua altro che ciccio bello che lo tira fuori no io avevo il castello lui ti ha tirato fuori il castello di Mighty Max ho provo del flash esatto allora in realtà dei giochi sono sempre stata abbastanza fortunata perché non mi hanno mai imposto giochi da femmina quindi avevo qualsiasi cosa dal microscopio alle lego vabbè sì anche le barbie quelli però a cui sono rimasta più legata e che continuo a collezionare sono i peluche ne ho tantissimi cioè ne ho comprati fino a spero che tu non sei allergica alla polvere sono osmatica e dove li li e spero che tu li tecca in cantina ma ho risolto perché ho ho imparato a aspirarmi i peluche quindi fin da piccola mi aspiravo questi affari con l'aspirapolvere però non puoi dire di avere troppi peluche tanto fino a che qualcuno non prova a entrare nella tua stanza e ti deve cercare beh io ricordo che andava di moda tantissimo quando ero 15-16 anni c'era sta moda di peluche in cui i tempi c'erano anche i popols che erano tipo dei cosi che tu li rigiravi nella loro stessa pelle praticamente e diventavano una palla ma ci sono adesso è vero ce l'ho visto sì lì c'era proprio una tonnellata poi andavano un sacco di ai tempi andava non so perché tantissimo anche a Roma eh e non c'è motivo il pupazzo di prezzemolo ah sì perché c'erano i gelati che giravano comunque vabbè tutto questo casino e mi ricordo che c'erano delle mie compagne di classe che nelle loro stanze avevano tipo il letto che per andarci a dormire la sera ci mettevano 20 minuti ma anch'io fino a tipo quando non mi sono sposata un anno e mezzo fa il letto lo dovevo sparecchiare la sera perché c'erano gli ospiti e invece Alice che ha cercato di prendere la parola sette volte sì ma intanto stavo pensando tutti i giochi che avevo che mi piacevano perché penso che ci fosse tipo il sapientino non so se quello con la penna bello quello che ti faceva pensare di essere totalmente stupida sì esatto quello perché penso di averlo usato fino allo sfinimento avevo anch'io il tartaruga ninja però avevo Michelangelo brava anch'io Michelangelo si vede siamo la resistance sì esatto perché era quello più stupido a me piaceva quello arancione come che si chiamava eh Michelangelo ah ok sì sì Michelangelo Leonardo era quello blu quello il cavetto con le spade Leonardo era il capo Donatello era la mente scientifica eh che noia Raffaello era quello incazzoso e poi c'era Michelangelo e poi c'era Michelangelo che era quello più più troncato eh sì ma perché poi voleva sempre e solo mangiare pizza quindi entravi in sintonia no? ma poi aveva i nonciaco scusa è vero ai tempi i nonciaco andavano di brutto tanto da comprarli e farti male immediatamente e non usarli più io li avevo di plastica ma era la plastica tipo quella dura quella delle sedie no? no no io c'avevo quelli duri no no io c'avevo quelli duri me li faccio una volta e non li ho più usati sì sì ma perché li vendevano con i giocattoli mi sa perché pure io c'avevo in un ciaco di vabbè ma ai tempi vorrei ricordarti che adesso ti sei trasformato in una puntata a Greenhawks ai tempi ricordarti c'erano la sicurezza dei bambini non doveva venire controllata da diversi organi statali e altro primo perché facevano quei giocattoli che morivi e poi moreri con il crystal ball che io credo che secondo me io i capelli li ho persi per quello perché io ne usavo in quantità industriali e l'altra cosa le manine quelle per delle patatine quelle delle patatine e l'altra cosa proprio più assurda di tutto questo erano i super tele che non so se esistono ancora se sono ancora in commercio dove in qualche mirato arabo li usano per lanciarli alle donne invece che i sassi no li trovi ma i super tele erano leggerissimi sì i super tele erano leggerissimi ma quando li gonfiavi al massimo e veniva fatto perché i bambini erano cattivi e io me lo ricordo perché giocavo in porta bastava andare dal benzinaio tu tiravi una pallonata con quello lo prendevi uno in faccia faceva uno schianto che in confronto i fuochi d'artificio di Capodanno in Cina è vero è vero non sono niente cioè la bomba maradona che fanno saltare gli esplosivi più grossi in confronto non era nulla per il dolore e la vibrazione del dolore che proseguiva per sempre come una tecnica di oculto e la vergogna sì perché essendo leggerissimi tu con la minima forza potevi imprimere una potenza spropositata lo so lo so io giocavo a pallone in cortile ah ok quindi conosco è per quello Mari che ora non hai più amici e lavori il 24 no in realtà ho giocato a pallone fino a un certo punto poi quando i maschi sono diventati troppo più grossi perché con la pubertà sono diventati giganti comunque già alle medie io non potevo più competere vedi in realtà vedi questo è anche il pro abbiamo detti contro questo era il pro del supertele che permetteva a chiunque di essere alla stessa altezza perché è come andare in giro con una pistola no che tu sei un bambino un pallone quello un culturista ti sparano muori uguale vero vero la cosa terribile era giocare a schiaccio sette con supertele che ti faci cinque e già tre quarti delle persone fuggivano uno tornava a casa c'era già gente che urlava l'altro era in tangenziale già al 6 mamma mia comunque Alice giocattolo preferito ci hai detto solo Michelangelo eh no eh sì che vabbè a parte lì il sapientino sapientone quel cavolo che era Clem 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 ah sì Clem Clem sì esatto esatto e poi in realtà avevo una passione per i mini pony quelli con tutte le code colorate che erano fatte tipo con quei crini di cavallo e al plutonio sì esatto poi erano di plastica che sapevano di plastica anche mesi dopo però era quella plastica un po' morbidina che ti veniva voglia di mangiare come i Tidepod sì esatto esatto quindi avevo un po' questa sorta di collezione e devo dire che poi in età adulta la passione per i mini pony mi è rimasta ma penso perché siano molto ne ho 3 hai giocato a Tales of Equestria no no però adesso non entrerà nel discorso del fatto che i mini pony per me i nuovi My Little Pony siano abbiano una forte attrattiva perché sono molto sessualizzati in realtà allora lì c'è dopo ci fa un bloc delle fan fiction sui mini pony tra l'altro la lasciamo qua i miei mini pony invece perché sono più vecchio erano gli orsetti del cuore sì oh mio dio gli orsetti del cuore ah c'erano anche gli orsetti del cuore sì ma ce n'erano di cartoni carini però sì i mini pony quelli nuovi sono parecchio sessualizzati e da qui nasce tutta la cultura Furry poi anche no più che Furry i Broni sì sì Broni esatto esatto quella sì eh senti che cazzo di esperto voi pensate che io sia solo un cazzone esperto di tutto ma io sono esperto nell'essere cazzone ho un master in questo io ho un master in cazzate cose che nella vita non servono a niente se non dire ah ma davvero vabbè ne lascio titolo onorio nerificenze sono comunque delle nozioni di cultura in generale potrebbero uscire da un concorso sì sì io potrei essere il campione di sarabanda delle minchiate uno di quei bellissimi programmi che esiste ancora lo fanno ancora non credo non credo anche perché comunque visto che il genere umano su certe cose arriva a livelli praticamente quasi inumani ci sono le persone o che hanno come si chiama non l'orecchio perfetto com'è che si chiama l'orecchio assoluto che con una nota sanno già e più ovviamente la conoscenza delle canzoni con due note ti sanno già difatti le ultime puntate di sarabanda vi ricordate quando c'era l'uomo gatto eccetera dovevano far venire queste persone un po' strane perché il gioco non era più un gioco tu da casa non giocavi più non capivi niente da casa erano pronti a dovinare la canzone e tra l'altro erano dei file mini terrificanti cioè non era neanche un pezzo questa è registrata dal live del 78 ma neanche neanche erano dei no no ma il tizio ti diceva questa il midi ti diceva è registrato questa era quella nel live nel 78 perché è iniziata con una nota mezza ottava diversa da quell'altra e la gente a casa guardava e rideva perché era uno vestito da gatto perché per il resto il gioco non aveva più alcun senso non esisteva più vorrei rivederlo da adulta adesso perché ero piccola quando c'era quella cosa qui e vorrei vedere c'erano i momenti finali dove c'era la gente quella proprio particolare era veramente una nota e se la giocavano lì ma quello me lo ricordo ma volevo vedere il disagio del presidio sai cosa riviste invece recente sia una puntata mezza puntata di non è la rai che bellissima invece cacchio mi è sfuggito di mente in questo istante andiamo avanti mi ritornerà in mente che cos'è cos'è la rai non è la rai non è la rai come non sai ma lei è giovanissima è normale che sappia cosa non è la rai comunque il vero momento green ox che ci manca è devi andarlo a guardare ah no ecco 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 me lo ricordo cosa ho visto si no vai a vederne una puntata festival bar eh no quello anche io usavo tutte le cassette e mi registravo le parti che mi interessavano no ma invece quello con Fiorello che faceva cantare la gente in piazza oh mio dio si come si chiamava era festival bar no il festival bar è dove c'era il festival bar no allora non era quello io dicevo quello con Fiorello quando aveva il codino eh Fiorello con il codino no non era il festival bar come si chiamava? non si chiamava karaoke? karaoke proprio si chiamava io lo incontrai al mare Fiorello Fiorello come lo posso trovare? Fiorello programma programma Fiorello karaoke si c'è è lui si chiama karaoke attenzione del 92 mi ricordavo un nome più esotico beh karaoke all'epoca lo era mettisci una S così sembra spagnolo karaoke Skyrokes Skyrokes basta giungerla S certo quello che manca davanti Skyrokes Corra Greenhawks dicevi? il momento Greenhawks è che ci scasta questo è il vero programma che manca nel mondo si è vero tipo sulla 7 gold mamma mia perché ci scasta col commento della gialappa eh ci scasta col commento di Greenhawks eh ma quello era perché perché sei giovane eh ragazzi che ci posso fare? stiamo vessando l'isen per la gioventù sono l'unica under 30 boom ah è vero mamma mia boom vabbè detto questo eh altre domande? facciamo un'ultima domandina dai così chiudiamo questo Natale felice e in armonia venite su Discord a cazzeggiare con noi cosa vorreste trovare il 25? il mondo finito non male ma finito nel senso a posto no esatto cioè che hanno finito di lavorare ma poi sarebbe bello tipo il 25 dicembre si svegliano tutti aprono i regali i bambini tipo film della Disney eh che abbracciano mamma e papà che non sanno che prima o poi moriranno anche loro e in quel momento mentre aprono i bambini no ma perché il cielo è un po' strano sembra quasi il tramonto si apre il telegiornale la fine dei giorni un asteroide non si può far niente il mondo finirà il 6 gennaio che bello amica addirittura è spazio eh sì perché devi vedere le espressioni dei bambini che hanno aperti i regali e hanno trovato la PlayStation 5 guarda ci puoi giocare per una settimana stronzo server intasati esatto e ci puoi giocare per una settimana questo è il mio auspicio di Natale ho 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 poi un auspicio di merda c'è un ciclo di massa essendo più realistici essendo più realistici in realtà un sacco di tempo libero mi basta per giocare ai videogiochi voi attenzione si la pace nel mondo e allora dovremo scontrarti per questo magari invece le meteorite scatena la pace nel mondo questo certo quelli che verranno fermati perché hanno appena spaccato una vetina ucciso i negozianti e rubato tutto intervistati diranno oh no vabbè perché l'hai fatto perché l'hai fatto per la pace nel mondo ti rispondono esatto vai io vorrei un tavolo per il soggiorno ma dai realistico sì dai sto ancora mettendo su casa questi giovani con le cose realistiche mi sembra sensato io vorrei una settimana alle terme ma anime o reali non avevo mai l'accappatoio no reali basta che non ci sia troppa gente che mi rompe le valle di quelle dove tu togli l'accappatoio per immergerti dalle terme poi rimetti l'accappatoio e vai in giro strusciando i piedi per tutto non dove la gente ti prende ti butta dentro la stanza e ti inizia a toccare che terme è scandale quale terme sei stato dipende adesso parliamo Guantanamo Bay estricamente ho descritto un bellissimo massaggio ma ah ok proprio se voi che pensate male subito non lo so perché poteva essere un posto molto interessante non è il caso di Joy diciamo quindi le misure non si prendono così no non ci sono mai stato ma devo consumare tipo 500 euro di un credito che ci da l'azienda no devo consumarlo entro il 31 dicembre e puoi farlo solo in cose di benessere ste minchiate qui o salute tipo dentista e cose varie però quello è già coperto quindi non me ne faccio niente devo spendere il 31 dicembre vorrei cercare un coso di terme già che le hai tirate fuori però con 500 euro sono tanti cioè no 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 ti fai allora ti fai due giorni e una notte non nelle terme che quelle tipo dove ci va tutta la gente diventa un carnaio ma in uno di quei posti che ha l'hotel con le sue terre però quei posti lì sono minimo tre ore di macchina no ma va vale da osta due ore ci sei lì sì vabbè senza fare pubblicità poi dimmelo devo portarci a mamma perché ne ho regalata una da 200 euro così la ragazza di mio fratello che era bagno nel vino no no aspetta con degustazione beh insomma era un 200 euro ah dello stesso vino esatto era una cosa di coppia questo vino sono un po' sul fisico no no era una cosa tutta fighetta ma poi facendo la dottoressa si è dimenticata non c'è andata e quindi ho buttato 200 euro non male no comunque quello dove sono andata io era una bomba eh allora hai dato a Simone che 500 euro forse non ti bastano se fai anche la cena ma poi mi date allora gli indirizzi però si può fare comunque sì 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 è meraviglioso a meno che tu non voglia spendere in salute ovvero in pozioni di salute eh non ce le hanno mana stamina beh mana la vogliamo considerare una pozione di salute eh coda di fenice o altro eh la coda di fenice è una pozione qua stiamo entrando eh non andiamo troppo sui dettagli che non vi vedo pronti ma andiamo anche poi esatto beh chi è manca qualcuna manca ancora qualcuno a dire cosa vuole per Natale tu relax Mari Alice pace nel mondo incontra qua Alice veramente cosa ti piacerebbe veramente ma io sai che negli ultimi anni il Natale è un po' mista sul cazzo brava cioè no nel senso che non ho bisogno di niente e lo vedo come quella cosa in cui per forza bisogna acquistare regali da fare a qualcuno e spesso non sai neanche cosa regalare e e e scusa ma pensavi così anche quando eri dipendente quando ero dipendente io ero dipendente della droga tu sei libera professionista no? sì no ma anche prima prima però non lavoravi prima non lavoravi no no ma anche anche prima nel senso quando ero dipendente avevo uno stipendio fisso sì ma no ma negli ultimi anni c'è in realtà non mi dice niente cioè sto diventando atea cioè non so io non faccio neanche niente ma io sono già atea ma il Natale è una cosa a parte sì no 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 anche perché poi la Mari venera la coca cola se ti piace il Natale non più perché dopo il covid non mi piace più la coca cola davvero? quindi niente più di coca rum in assoluto devo provare perché col rum in realtà prende un gusto diverso ma perché non ti piace più la coca cola? mi sono cambiati i gusti insa di copertone ma anche prima sapeva di copertone no no prima sapeva più o meno di paradiso la coca cola ok beh mi spiace per te questo è un dramma perché ti sei ammalato sei guarita? sì mi sono ammalata e sono guarita ah allora ci sta classico lo mettono sempre tre sintomi beh no è vero eh tre sintomi puoi perdere l'olfatto e in parte il gusto ci sta sì ho perso tutto è tornato tutto alcune cose un po' diverse esatto e il succo all'albicocca ma non è che hai comprato il succo all'albicocca di merda no e la coca cola non è che posso comprarla di merda beh magari sai era una che hanno lasciato lì al sole per sei settimane no ho provato ad assaggiarla tante volte brava non demordere ogni tanto dico ahhh fai con i veleni abituatene un po' per volta esatto adesso proverò coca e rum e coca i jack e vediamo quindi abbiamo l'isen tavolo nuovo simone portare a fine i due progetti che ho in mente vabbè non basterebbe che non venissero a trovarti per Natale fai prima no? giusto povera suocera spero con questo Natale che lo capisca spero che questo Natale lo capisca hai presente quei cosi per dissuadere i piccioni da mettersi sul balcone li ha messi sulle sedie nel letto il cuscino è pieno di triboli e al posto di welcome c'è scritto vaffanculo al posto di christmas cracker c'ha le bombe quelle con dentro chiodi il calendario dell'avvento è al contrario quando tu lo apri dici solo dai ancora 15 giorni e poi la vecchia di merda se ne fa e poi te ne vai 12 giorni 12 giorni con dentro dei cioccolatini però perché quello beh in realtà in realtà Simo ti basterebbe far ascoltare questa puntata a tua suocera beh se si ha detto che che hai cosa raggiunta poi si ha detto che vuole usare questo Natale per farglielo capire non ha preso le sue misure però eh Simo cos'è quel volantino della taffo di teatro a proposito c'è il gioco da che taffo che mi ha detto il gioco da tavolo della taffo il gioco di ruolo scusa sì sì da tavolo sì sì come vuoi fare di ruolo e il seguito di green ox beh anche il seguito di green ox può avere un seguito ricordatevelo quindi no non lo so quello che lo conoscete no cioè il senso so che esiste ma poi dms che sta giocando a più no è da tavolo credo che già abbia ragione Alice però sì poche copie con le pare no avevo visto un un volantino una cosa a modena ma in che cosa consisterebbe? eh taffopoli hai le bare al posto delle pedine no è vero hai le bare con me nella tomba si chiama e viene descritto da vince questo gioco vince Kibara però non c'è nessuna descrizione questo prodotto non è più disponibile oh mio dio è un progetto morto sul nascere no 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 ha fatto sold out subito bello a breve non dà ancora i dettagli però figo però voglio vederlo è stato pleggiato no non ha fatto pleggi hanno fatto delle copie tipo duecento copie qualcosa del genere sold out prima ora qualcosa del genere cacchio va buono signori io spero che a natale ci sia il meteorite quindi buon natale a tutti spero che mentre cade il meteorite l'isenne trovi il tavolo Simone non avrei più problemi con la sua c'era tanto fino al set a breve però posso mettermela sulle spalle così muore prima quel millesimo di secondo prima però sì ci sta perfetto tu corre hai detto cosa vuoi per natale no ma io sono dello stesso partito da lì cioè io queste cose ti devono regalare per forza qualcosa che non mi serve quindi siete d'accordo con il meteorite perché sarebbe l'ultima volta che il natale vi rompe il cazzo però poi ci sarà la pace nel mondo esatto sicuramente dopo c'è la pace nel mondo molto dopo molto dopo un mondo di tartaruga ninja fabbriche dei mostri e lego oppure parte tipo e Mad Max comunque io avevo una bellissima pista delle Hot Wheels belle io le Hot Wheels non sono mai riuscito a usarle perché io avevo sempre le piste quelle che praticamente sei erano due piste piccole che mettevi insieme non ho mai avuto la pista quella grande e quindi andavano troppo veloce e partivano sempre via nelle curve e lì bisognava fare le curve fatte bene ma devi avere abbastanza pezzi con le alzatine e poi noi le allungavamo con i libri sì 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 certo perché la cultura vedi la cultura solleva l'uomo e anche le pedane delle Hot Wheels avevo fatto una pista che partiva dal davanzale alto e scendeva giù tutta schiantando ma comunque qualsiasi pista tu abbia fatto non sarà mai pari a quella di Lapo e detto questo vi auguro a tutti un buon Natale Ugo c'è mail torna dopo Natale per vedere se i buoni propositi allora se la puntata esce prima del 6 preoccupatevi perché vuol dire che probabilmente non ce ne saranno altre se no ci sentiremo dopo è perché cade il meteorite facciamo una puntata per dire c'avevo ragione cioè come minimo sì se ci vedi su sta cosa comunque fateci delle domande perché siamo allo sbaraglio l'avete sentito comunque il 6 il 6 è giovedì poi quindi la mattina dell'Apocalisse potrebbe uscire Ugo c'è mail insieme a Fragments è giovedì bello signori in preparazione all'ora dell'Apocalisse buon anno buon Natale venite su Discord a chiacchierare con tutti noi venite anche su Discord perché adesso ci sono in teoria le spedizioni credo di un po' di roba not the end è già arrivato cotra dovrebbe essere negli ultimi pledge non so come funziona quella roba ci penserà Claudio così impara a non venire a Ugo c'è mail giusto e quindi venite su Discord e vedete quello che c'è potrete scoprire potrete anche scoprire come si riproducono le sirene sì sì sicuramente e con questo grazie agli ospiti grazie grazie buon Natale a tutti buon Natale e un felice anno nuovo kaboom